calispera seullu buonasera a tutti iniziamo la nostra parte del concerto con seimnume ti lodiamo uno dei più impettrativi inni dell'adorazione bizantina che si canta nel momento più sacro quando avviene la trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di gesù la sintesi musicale è di frasibulo staniccias uno dei più grandi cantori del patriarcato di costantinopoli se grazie mille chiarisci grazie a tutti di 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 il di 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 D O'n Thèos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, All'n Thèos, In agos, All'n Thèos, Agios Avengers, Grazie a tutti.